Il Divulga Fiore, informazioni verificate. Andiamo a scoprire che cos'è l'editoria di territorio, una delle migliori risorse del sistema culturale italiano. Le case editrici che ne fanno parte possono essere suddivise secondo due parametri. Da un lato abbiamo quelle che rappresentano le identità locali, materiali e immateriali, mantenendo comunque una vocazione globale. Sono le case editrici che raccontano il territorio. Dall'altro lato invece abbiamo quelle che hanno costruito la propria solidità economica grazie a una rete stabile di relazioni con i principali portatori di interesse del territorio, con un catalogo però non esclusivamente basato sullo stesso. Quindi sono quelle case editrici che hanno avuto un certo successo e che continuano a rimanere nel territorio dove sono nate, guardando però altrove. L'editoria di territorio in particolare, ma in realtà anche le altre case editrici, anche gli altri editori, hanno la necessità di costruire in maniera logica il proprio catalogo. Il catalogo alla fine deve sembrare quasi un unico e infinito libro. Vi deve essere un'idea di fondo, una coerenza interna. Non vuol dire doversi concentrare su un unico genere letterario o su una sola tematica, assolutamente, ma tutti i libri comunque devono essere ricondotti ad una visione comune. Concentriamoci sul primo parametro, quindi gli editori che narrano il proprio territorio. Bene, certamente la provincia, in particolare quella italiana, è un osservatorio privilegiato per guardare il mondo, sono fortunati da questo punto di vista. Tuttavia devono per forza scavallare anche in altri settori culturali per poter sopravvivere, quindi fondamentale l'organizzazione di eventi di qualsiasi tipo, non rimanendo concentrati esclusivamente sulla mera pubblicazione di titoli. E questi volumi hanno il bisogno di durare nel tempo e solitamente quelli che durano e sono sempre contemporanei sono proprio quelli pubblicati da queste case editrici. Titoli quindi non alla moda, sempre presenti perché raccontano una parte della nostra storia, non scadono mai. Per quanto riguarda invece il secondo parametro, le case editrici che rimangono ancorate al proprio territorio, trattando però tanti altri temi, possiamo dire che la narrativa accomuna molte di queste case editrici, ma è anche il genere che rende meno evidenti le differenze che esistono tra l'una e l'altra, è evidente. Vi sono però altre tematiche ricorrenti, in primis l'architettura, che è stata favorita dalla diffusione delle facoltà di architettura sull'intero territorio nazionale, tanto che vi sono alcuni editori appartenenti a questa categoria che addirittura si concentrano esclusivamente sull'architettura, pubblicano solo volumi su tale tema. Ma ve ne sono anche degli altri, le guerre mondiali, la cultura trasfrontaliera in quei territori che si trovano al confine con altri paesi e anche i rapporti tra comunità, quando in uno stesso luogo coabitano più realtà e più popolazioni. Vi è in realtà anche però una terza possibilità, alcune case editrici che non appartengono a questi due parametri ma comunque costituiscono editoria di territorio. Perché? Perché è possibile anche promuovere un territorio diverso da quello in cui si insiste. In particolare abbiamo esempi di case editrici italiane che si mettono a narrare quasi in maniera epica luoghi che si trovano oltre la nostra nazione, oltre i nostri confini. Sono esperienze da valorizzare anche queste. Iscriviti, like e condividi.